I finanzieri del secondo gruppo di Bari, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, durante i controlli d'imbarco nei confronti di mezzi e passeggeri diretti in Albania, hanno rinvenuto su di un pullman diretto a Durazzo, in una gabbia di piccole dimensioni, due esemplari vivi di pappagalli protetti. Presentatosi del tutto anomalo il trasporto sin da subito, sono partiti i primi accertamenti dai quali si è potuto verificare che si trattava di due pappagalli appartenenti alla famiglia Psitacide, uno della specie Arambigus e l'altro della specie Amazona Estiva. Entrambe le specie sono incluse negli allegati A e B della Convenzione CITAS posta tutela della flora e della fauna protetta a rischio di estinzione. Il cittadino albanese che curava il trasporto è stato denunciato alla locale procura della Repubblica per esportazione e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, mentre i due esemplari di pappagallo sono stati consegnati in custodia ad un allevatore privato.